Sotto le mura del vecchio castello si affaccia insieme alla torre campanaria e al palazzetto Roy l'oratorio di Santa Croce, che sorge in quel punto già dal XIII secolo. Chi lavora duramente, esposto all'interpegne, come la gran parte degli abitanti di Braccia e nei secoli passati, conduce una vita semplice a contatto con la natura e ne conosce bene i ritmi infiniti di vita e di morte. La fede è allora una grande forza per affrontare le difficoltà quotidiane e per sostenere le grandi prove della vita. Anche a Braccia e lì c'è una confraternita, il cui scopo è proprio quello di richiamare quanti vivono qui ai grandi valori di speranza e di forza che vengono dalla croce e dalla risurrezione di Cristo. I due brani, che ascolteremo tra breve, ci portano proprio nel clima della settimana santa, che stiamo vivendo anche oggi. Sul Calvario, quando tutto sembra finito e la morte sembra vincere, la vita prepara il proprio trionfo. Proprio come quando le gemme, al primo sole di primavera, riempiono di verde e di vita i rami ancora utilizziti dall'inverno.